Una visione del profeta Ezechiele, la visione del carro di fuoco. Il profeta Ezechiele vide un carro, ma era un carro fatto di fuoco, che scendeva dal cielo verso di lui. Non ebbe paura, anzi, gli corse incontro e incominciò a gridare, rallenta dolce carro, ti prego, rallenta, fermati e fammi salire. Portami, signore, portami piano e dolcemente al di là del fiume Giordano, sull'altra riva dove troverò un altro mondo e un'altra vita. Rallenta dolce carro, swing low, sweet chariot. Sweet low, sweet low, sweet low, sweet low. Sweet low, sweet low, sweet low. Sweet low, sweet low. sweet. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.